Feltri, Feltri, che dici? Che dici, Vittorio? Hai capito? Cioè, la Lega ha fatto la mozione di fusione contro la Morgese e mi pare che l'Azzolina non è proprio contenta delle azioni di Bianchi, così. Ma io ho molta stima dell'onorevole Azzolina, per cui non posso denigrarla. L'anno scorso è stata attaccata per delle motivazioni stupide che comunque i problemi non dipendevano da lei. Semmai lei ha cercato di sistemare le cose, in parte c'è riuscita, in parte no. Ma non c'è mai riuscito nessuno, perché sono 60 anni a meno che la scuola italiana ha delle gravissime carenze. Da quando è stata istituita la scuola media unificata è successo un disastro. Anche perché vorrei ricordare che allora, i primi anni della scuola media unificata non c'erano neanche gli insegnanti, per cui si andava a raccattare dei studenti universitari che erano completamente impreparati e quindi c'è stata una dequalificazione della scuola, dalla quale non siamo più riusciti a risalire. Devo anche dire, così per semplificare, e quando io che sono vecchio come dattero andavo alle scuole medie, quelle selettive di una volta, traducevamo dal latino il debello gallico in terza media. Adesso arrivano in quinta ginnasi per fare questa traduzione. È la dimostrazione plastica che la scuola è decaduta, ma non è colpa del ministro che può fare più o meno bene, ma parte da una situazione di caos. La scuola è stata trascurata. Tant'è vero che anche adesso la scuola è scollegata dal mondo del lavoro. Quando un ragazzo si diploma, non riesce a trovare un posto di lavoro perché non sa fare un mestiere. Non è vero che esiste la disoccupazione. Esistono dei posti che non siamo in grado di far ricoprire i nostri figli perché hanno studiato male. Ma non è colpa neanche degli insegnanti. È l'organizzazione che manca. Devo chiudere. Vittoria ha fatto un bel excursus.